Il magnifico rettore dell'Università d'Annunzio Chietti Pescara, Sergio Caputi, spiega ai nostri microfoni la modalità che verrà adottata in questo anno accademico, segnato purtroppo ancora dal Covid. Le lezioni saranno in modalità mista, cioè sia in presenza sia in remoto. Lo stesso vale per gli esami e le attività collaterali, tutto questo per via del Green Pass, obbligatorio per poter frequentare l'Ateneo e quindi per agevolare gli studenti. Si è scelta questa tipologia. Noi avevamo deliberato a giugno di mantenere le lezioni frontali in modalità mista a scelta dello studente e mentre gli esami e le tesi di laurea farle tutte in presenza. Dopo all'inizio del 6 agosto è uscito un decreto ministeriale che imponeva il Green Pass agli studenti per poter accedere comunque all'università, alla sede universitaria, quindi anche per gli esami e per le tesi. Abbiamo aspettato fino all'ultimo momento, proprio forse fino all'ultimo giorno, poi ho dovuto prendere una decisione, cioè quella di far rientrare gli studenti in modalità mista anche per gli esami e le tesi di laurea. Perché altrimenti se avessimo impedito agli studenti proprio all'inizio di settembre di fare gli esami ci sarebbe stata una interruzione di pubblico servizio. E questo noi non vogliamo farlo e siamo orientati ad andare incontro alle esigenze degli studenti. Certo, noi prioritariamente vorremmo che gli studenti rientrassero in sede sia per le lezioni che per gli esami che per le tesi di laurea. Naturalmente impedire a uno studente che non ha avuto modo o per qualche motivo non si è potuto vaccinare, impedire allo studente di sostenere un esame sarebbe una cosa incredibile sull'orlo della denuncia. Il futuro e cosa si augura? Io mi auguro che si torni alla normalità. Questo non ha impedito agli studenti comunque di iscriversi all'università. Comunque credo che la modalità da remoto in qualche maniera, in qualche rara situazione, per qualche esigenza particolare, comunque rimarrà. Perché oltretutto siamo strutturati per fare la didattica contemporaneamente, sia in presenza che in distanza. Nonostante il Covid però c'è una particolarità sulle iscrizioni? Sì, le iscrizioni noi prevedevamo un calo del 20% più o meno del numero degli iscritti, invece sono aumentate le iscrizioni. Quindi diciamo che la voglia dei ragazzi comunque di mantenersi in forma da un punto di vista intellettivo è rimasta.